Chi pensa che allora hanno riposato un giorno in più e allora manca questo e allora manca quell'altro sono solo scusanti dei perdenti dobbiamo prendere solo forza da queste cose e metterle in campo perché sappiamo che uniti tutti e 23 possiamo veramente fare qualcosa di importante abbiamo scalato una vetta importante ma adesso abbiamo l'Everest davanti ma ripeto, uniti e con la consapevolezza che siamo una buona squadra possiamo veramente fare qualcosa di importante quando vedi un gol dell'Italia non vedi uno dei primi undici ad essere il primo ad abbracciare chi fa gol ma molte volte vedi uno con la casacchina uno che si sta scaldando o addirittura un dirigente quindi questo vuol dire che siamo tutti attaccati alla maglia è quello che si dice sempre è una prova è un fatto che è un fatto oggettivo che si vede che siamo attaccati a questa maglia che siamo attaccati a questo gruppo e quindi si può definirci benissimo giocatori tra virgolette tifosi perché vogliamo fare del bene a quest'Italia e vogliamo che i tifosi facciano quello che stanno facendo ora cioè seguirci e sostenerci fino all'ultimo minuto il mister ha portato in due anni tutto il suo bagaglio tecnico, tattico che aveva e in più ha portato la sua personalità che aveva in campo che era comunque forte abbiamo solo noi giocatori lavorato per far sì che quello che il mister diceva poi sia stato fatto in campo fino ad ora è stato fatto alle volte benissimo alle volte magari meno bene perché ci sono anche gli avversari però è sicuramente un bel metodo di lavoro fa anche piacere giocare giocare ed avere la palla e quando hai la palla anche giocando ad occhi chiusi sai che trovi un compagno in quella posizione quindi sicuramente ha fatto un grande lavoro con l'Italia grazie